l'italiano bilotta la forma pensiero che cos'è come nasce come agisce i libri del casato l'italiano bilotta studia da più di 40 anni la filosofia della reincarnazione e la divulga applicandola alla vita si è appassionato all'ipotesi reincarnativa frequentando grandi medianità che erogano imponenti insegnamenti onnicomprensivi della realtà scrive sul giornale dei misteri ed ha pubblicato più di 20 libri anche in formato elettronico con varie case editrici